ansa voice stories il racconto della settimana non pensavo di avere un futuro nell'azienda agricola di famiglia ero all'estero lavorato in finlandia ora mi sveglio la mattina e vedo realizzato il mio sogno buono ascolto a tutti sono monica paternesi della redazione economica e oggi vi racconto una storia di nuova agricoltura insieme a Dario, Antonella, Teresa e agli altri giovani imprenditori agricoli che hanno acquistato i loro terreni dalla Banca Nazionale delle Terre Agricole che grazie alla legge di stabilità del 2016 consente ai giovani di acquistare i terreni pubblici in stato di semiabbandono a basso prezzo e con finanziamenti agevolati c'è Dario Capogrosso che ha aperto un allevamento di cani pastore che devono essere felici a Tortona è andata a riscoprire e selezionare razze antiche tradizionali che con la loro biodiversità rappresentano tanti modi diversi di dare protezione alle greggi e ha concepito la propria attività, quella del pastore transumante intorno alla ricerca del benessere del cane e degli animali che con lui vivono in azienda come alpaca, capre, pecore, maiale e galline l'attenzione all'ambiente e agli animali è uno dei fattori comuni delle diverse storie Antonella Manuli dell'azienda di agricoltura biologica La Magliosa di Pitigliano racconta la storia che l'ha portata a brevettare un metodo innovativo per la produzione di uva da taula e di vino è un metodo che si focalizza sulla vitalità dei suoli e sulla salubrità dell'ambiente dei produttori e dei consumatori non pensate, dice, che solo le grandi aziende possano fare innovazione ed è una storia di innovazione anche quella di un'altra Teresa che racconta come la sua azienda, che produce farro, frumento e altri cereali a Cerignola si distingue per l'uso di sistemi di agricoltura di precisione e di tecniche di agricoltura conservativa che contrasta il consumo di suolo La scelta dei campi da parte di una nuova generazione di imprenditori spesso con una laurea in tasca si accompagna così a una forte ondata di innovazione nel settore Abbiamo rivoluzionato tutto, racconta Emanuele Pisaroni dell'azienda agricola Pizzavacca di Villanova sull'Adda che ha investito molto per chiudere la filiera e produce così anche sottoli, nettari di frutta e conserve di verdura senza conservanti e coloranti In alcune di queste storie è proprio l'esperienza oltre confine a far comprendere il potere della tradizione come dice il viticoltore Rocco Vallorani di Ascoli Piceno Ho lavorato all'estero nel vino per otto anni e mi sono accorto che c'è sempre più richiesta di vera agricoltura italiana artigianale racconta, motivando così la sua scelta di tornare nell'azienda di famiglia e rilanciarla, puntando sull'internazionalizzazione e la sostenibilità Insomma, arrivano delle novità in agricoltura Oggi, in Italia, sono 57.083 le imprese agricole che sono condotte da giovani imprenditori e 210.402 quelle guidate da donne Inoltre, anche le immatricolazioni all'Università di Agraria sono sempre di più circa 2.000 iscrizioni in più all'anno a partire dal 2014 e l'incidenza del settore agricolo è forte tra gli sbocchi occupazionali delle nuove generazioni secondo uno studio che vede nel settore non tanto una scelta di ripiego quanto un interesse vero e proprio legato alla terra e all'ambiente alimentato anche da una maggiore sensibilità delle giovani generazioni sul tema della sostenibilità ambientale e da una maggiore consapevolezza del legame tra cibo e territorio Insomma, i giovani sono degli importanti driver di cambiamento anche nel settore dell'agricoltura e stanno inventando un modo per costruirsi il loro futuro Grazie a tutti!